Cernobbio e Villa Erba 2023, un anno di arte, musica e spettacolo. Un nuovo progetto ideato e promosso dal comune di Cernobbio e da Villa Erba in collaborazione con il Teatro Sociale di Como Aslico e Mainina. Gli eventi diffusi nel territorio di Cernobbio, dalla villa antica Villa Bernasconi, dal parco secolare all'ex galoppatoio. Un ampio e variegato palinsesto di intrattenimento per adulti, giovani, famiglie e bambini con appuntamenti ad ingresso libero ed altri a pagamento con l'intento comune di rendere fruibili a tutti i luoghi non sempre accessibili. Sono molto felice e gratificato nel veder realizzato questo progetto, afferma Filippo Arcioni, presidente di Villa Erba SPA, un luogo ideale ad ospitare gli eventi e l'ex galoppatoio che si ridesta dopo anni di sonno e di indifferenza. La prima giornata in calendario in collaborazione con il Teatro Sociale si terrà sabato 25 marzo con il secondo appuntamento del format le quattro stagioni di Villa Erba dal titolo Energia a colori, dedicata alla primavera. Nella Kermess rientra anche il palinsesto di eventi organizzato e promosso dal comune di Cernobbio che animerà il territorio nei mesi estivi. Mainina proporrà tre grandi festival, Lago di Comics, la Villa Music and Arts Festival e Lake Sound Park. Da giugno a settembre Villa Erba e l'area dell'ex galoppatoio ospiteranno questi tre eventi, tra i nomi attesi, Fiorella Mannoia e Danilo Rea per una data della loro tournée Luce e Piero Pelù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.